È logico che dobbiamo per forza di cosa partire da tambur bartender perché il segno della continuità si è visto anche nei risultati. La gente di Casa Micciola ha votato noi anche per questo, cioè per dare un segnale a quella che era importante, la continuità e portare avanti i progetti e tutte le problematiche che purtroppo il terremoto ha evidenziato. Il fatto che ho fatto oggi i decreti non è niente di che perché potevamo farlo anche 15 giorni fa, non si è discusso perché la logica dei numeri è quella che è. Ho detto pure che potrebbe nel corso dei mesi, degli anni, potrebbe anche venire fuori una turnazione proprio per dare spazio a tutti quanti come giusto che sia, però questo si è deciso pacificamente senza nessun tipo di riserve. Anche i consiglieri hanno avuto le deleghe, anche i quattro candidati consiglieri che purtroppo non ce l'hanno fatto avranno anche dei ruoli importanti perché reputo che in questo momento il comune di Casa Micciola e Casa Micciola ha bisogno dell'aiuto di tutti quanti, anche della minoranza, di esprimere veramente un aiuto concreto, visto che considerate che siamo pieni di guai. Il popolo di Casa Micciola vuole che effettivamente questa squadra che ha vinto risolvi i problemi, cioè effettivamente porta avanti le varie problematiche. Purtroppo molti cittadini stanno soffrendo maledettamente perché comunque vive in una casa infitto e non in una casa di propria abitazione, di propria proprietà, dove si è veramente buttato letteralmente il sangue per poterla costruire e mantenere. Non è una cosa che psicologicamente può essere sopportata più di tanto. Quindi diciamoci nella sincerità, sta a noi adesso veramente rimborcarci le mani e andare nel concreto e non badare a queste cose della carica per me e per te, infatti. Ecco perché sono stato tranquillo subito dopo l'elezione, non ho avuto nessun problema né tantomeno qualcuno ha tirato la giacchetta, come si suol dire in queste fasi. Perché hanno capito il segnale che ci ha dato Casa Micciola, cioè i quasi 200 voti stanno a significare questo fatto nella concretezza. badate al sodo, non badate alle cariche perché sono convinto che se fra cinque anni noi portiamo le soluzioni allora il popolo di Casa Micciola ci tornerà a votare, altrimenti con tutte le possibili forze ci butterà fuori dal Consiglio.